Hanno tagliato la siepe, sfondato una vetrata sul retro della struttura, ma a differenza delle altre volte l'obiettivo dei ladri non sono state le slot machine. Nella notte fra martedì e mercoledì scorsi si sono introdotti nel locale strisciando nel pavimento per evitare i sensori e non far scattare l'allarme. Poi si sono diretti nel magazzino ed hanno sportato blocchi intere di gratte vince e circa 60 stecche di sigarette. Non c'è tregua per il bar polvere di caffè adiacente al distributore di carburanti in via Bellandra Fano. Disperato e ancora incredulo, il titolare Pierpaolo Marcantonini ci racconta che dopo questo episodio l'assicurazione ha voluto disdire il contratto e per ora nessun'altra avrebbe intenzione di coprirlo, visto che si tratta del quarto furto messo a segno in soli pochi mesi e per di più con un danno economico che si aggira attorno ai 10.000 euro. Il colpo è avvenuto in piena notte ma ad accorgersene solo alle 6.30 del mattino è stata la moglie che non ha potuto far altro che allertare le forze dell'ordine. Un altro furto nella notte è stato consumato ai danni della ditta Edil Gessi in via Chiarucciafano dove hanno rubato un furgone, un Ford Transit contenente diversa attrezzatura di un valore complessivo di 20.000 euro. Ma i ladri non si sono fermati qui perché hanno preso di mira anche le abitazioni private. Sempre in zona Chiaruccia si sono introdotti in una casa passando dal garage e hanno rubato i fucili custoditi in una cassaforte. Il proprietario che in quegli istanti stava dormendo si è accorto del furto soltanto il giorno dopo quando intorno alle 13 ha chiamato i carabinieri di Fano che ora stanno indagando sui colpi. La notte scorsa invece intorno alle 4.30 i militari di Mondavio sono intervenuti a Sant'Andrea di Suasa e a San Michele al fiume per due tentati furti nelle abitazioni.